Grazie Questo è vero, se ci si aspetta di comprarla in qualche posto, ma quale grazia, quale dono si attende un'accoglienza affatto a buon mercato? Il cuore ingombro di tentativi, di pienezza, ha da trovare il suo vuoto perché la gioia vi faccia dimora, perché la gioia vi faccia dimora. Ora, felicità non costa nulla, che infinito e irraggiungibile ne risulterebbe il prezzo, ma nel paradosso del reale ci richiede l'interezza d'esistenza.